scopriamo insieme come preparare la pasta fredda cremosa in un boccale aggiungiamo i pomodorini, la ricotta, il pecorino grattugiato, qualche foglia di basilico, un filo di olio d'oliva, un pizzico di sale, una macinata di pepe e frulliamo il tutto scolliamo la pasta al dente, uniamola al sugo e amalgamiamo tagliamo in quattro qualche pomodorino e mettiamoli da parte aggiungiamo qualche foglia di basilico spezzettata, uniamo i pomodorini e mescoliamo per bene aggiungiamo ora le mozzarelline, mescoliamo e facciamo insaporire per bene il tutto ecco pronta la pasta fredda cremosa, una pasta perfetta per le calde giornate estive per tantissime altre ricette ricordati di scaricare gratis la nostra app ecco pronta la pasta fredda cremosi Grazie.